Troppa disparità in provincia di Bergamo tra gli stipendi dei lavoratori con più anzianità e quelli assunti da poco, quasi 15.000 euro di differenza, lo dice un'analisi della CISL. Apre al pubblico il nuovo sentiero partigiano, strada della battaglia di Fonteno 31 agosto 44. L'itinerario tra Fonteno, Adrara San Rocco e Endine Gaiano ripercorre i momenti della più importante battaglia della resistenza bergamasca. A Gazzaniga il camp di calcio targato Real Madrid, una cinquantina di ragazzi iscritti da tutta la Bergamasca e anche da fuori provincia. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Abbiamo un'ampia pagina della cronaca in questa edizione. Anzitutto un intervento dell'elisoccorso questa mattina presto a Lenna per un incidente stradale tra due moto. Questo è successo poco prima delle 6.30 sulla strada provinciale in via dell'Industria. Sono rimasti feriti due uomini di 51 e 55 anni, entrambi trasportati in ospedale con codice giallo. Uno al Papa Giovanni di Bergamo, l'altro a Zingonia. E ben cinque i veicoli coinvolti in un incidente accaduto questa mattina a Zanica, lungo la tangenziale Sud. A scontrarsi intorno alle 8, un camion, due furgoni e due auto. Sei le persone coinvolte, nessuna di loro è rimasta ferita in modo grave. Sul posto l'automedica e tre ambulanze. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine. Un'auto in fiamme questa mattina all'Effe. La vettura ha preso fuoco in seguito a un incidente stradale. È successo all'ingresso del paese, non lontano dal supermercato Conad. La 19enne alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto, che sarebbe poi andata a sbattere contro un muretto alato della strada. L'utilitaria ha preso fuoco, ma la ragazza è riuscita ad abbandonare in tempo l'abitacolo. La vettura è andata completamente distrutta. Una densa nube di fumo nero, visibile anche a distanza, si è alzata dall'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L'episodio ha anche creato disagi alla circolazione. In questi giorni, infatti, è chiuso al traffico per lavori l'altro ingresso al paese, nella zona del cimitero. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio anche a Fiorano al Serio. I soccorsi sono scattati in Largo Garibaldi, intorno alle 15.30. Un veicolo sarebbe andato a sbattere per cause imprecisate. Ferito un uomo di 86 anni, trasportato in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. Diversi interventi dei soccorsi, oggi anche in impianti lavorativi. Infortuni si sono verificati a Cene, poco dopo le 14, un sessantenne trasportato in codice verde all'ospedale di Piario e a Casnigo intorno alle 15, coinvolta una 34enne, anche lei in codice verde a Piario. Interventi per Malori invece a Cene, intorno alle 16, una 35enne in codice giallo a Seriate e a Cazzano Sant'Andrea una 52enne trasportata in ospedale in codice verde. A Cazzano Sant'Andrea l'intervento intorno alle 17.30. Chiudiamo con queste notizie di cronaca, proseguiamo con il nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, troppa disparità in provincia di Bergamo tra gli stipendi dei lavoratori con più anzianità e quelli dei giovani assunti da poco. Ci sono quasi 15 mila euro di differenza, lo dice un'analisi della CISL di Bergamo. Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale Francesco Corna. Cosa ci dice questa analisi della CISL di Bergamo relativa alle dichiarazioni dei repiti dei lavoratori dipendenti? Sì, noi abbiamo fatto un'analisi delle dichiarazioni che si sono svolte presso il nostro CAF, che sono circa 125 mila dichiarazioni all'anno, quindi un campione consistente. Abbiamo un po' estrapolato quelli che sono i dati salariali dei lavoratori e dei pensionati che si sono rivolti a noi. Abbiamo evidenziato una notevole differenza di salario tra giovani e lavoratori giovani e lavoratori meno giovani. Questo perché nel nostro paese purtroppo c'è un'accoglienza dei giovani all'interno del mercato al lavoro che non è delle migliori. Non c'è un collegamento tra studio e lavoro e spesso i nostri migliori giovani che arrivano formati nel mondo del lavoro vengono accolti con degli stage praticantati, salari bassi, contratti a termine, contratti frazionati. Questo è negativo sia per le famiglie che hanno investito in questi giovani, sia per questi giovani che devono avere un'autonomia, sia per il loro futuro perché le pensioni sono proporzionate agli stipendi che si va a percepire. C'è un problema salariale più generale nel nostro paese. Nel nostro paese abbiamo degli stipendi, delle pensioni basse e abbiamo una produttività del lavoro bassa. Bisogna recuperare potere d'acquisto per lavoratori dipendenti e per pensionati. Questi problemi energetici che stiamo vivendo anche a livello internazionale e le speculazioni che ci sono su questi problemi energetici hanno fatto aumentare l'inflazione e chi sta pagando di più in questo momento di inflazione sono sicuramente i redditi più bassi e tra questi ci sono giovani, donne e immigrati, diciamo, nel mondo del lavoro che sono quelli che hanno le retribuzioni inferiori rispetto a quella che è la nostra analisi. In questi giorni, in questo periodo, si sta parlando di salario minimo. Che cosa ne pensa? Ecco, quando si parla di salario minimo, anche nel nostro paese, bisognerebbe riuscire a entrare nel merito di questa questione. L'Europa ha dato un'indicazione generale ai paesi membri di attuare delle politiche che vadano a incentivare il lavoro e ad aumentare gli stipendi. In cui siamo tutti d'accordo, bisogna capire come fare. Nel nostro paese, a differenza di altri paesi, la contrattazione comprende più dell'80% dei lavoratori. Alcuni sono ancora esclusi. Noi diciamo che vanno inclusi tutte le persone all'interno della contrattazione. Detassare la contrattazione di risultato all'interno delle aziende e non la scorciatoia del salario minimo. Si parla dei 9 euro all'ora. I contratti che noi applichiamo, che firma CGL e CISLEWILL, sono molto maggiori di 9 euro, perché già considerare la tredicesima, la quattordicesima, dove è prevista un mese di ferie, la liquidazione e se noi applicassimo 9 euro all'ora, come in altri stati, i nostri laboratori e i lavoratrici sarebbero più poveri. Bisogna comprendere chi è escluso, fatto rientrare nel perimetro della contrattazione, eliminare quei contratti pirata che contrattano solo a ribasso, quindi applicare i contratti maggiormente rappresentativi. Se si pensa di sconfiggere il lavoro nero col salario minimo, è una più illusione, perché laddove un datore di lavoro non applica le regole di legge che già oggi esistono e quindi fa lavorare delle persone in nero, non capiamo perché domani dovrebbe applicare il salario minimo. Quindi non sbanderiamo la bandiera del salario minimo come la soluzione di mali, che non è vero, è pura demagogia. Noi diciamo che bisogna aumentare il perimetro contrattuale, detassare la contrattazione aziendale e comprendere chi oggi e ispezioni, controlli e sanzioni a chi invece adotta il lavoro nero. Questa è la strada per recuperare il potere d'acquisto nel nostro paese, aumentando anche la produttività delle imprese, perché altrimenti non si riesce ad ottenere dei salari più alti. È confermato anche per il prossimo anno scolastico il calendario regionale di carattere permanente. Sentiamo quali sono le date. In Lombardia il prossimo anno scolastico comincerà lunedì 5 settembre per le scuole dell'infanzia e lunedì 12 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. Le lezioni termineranno l'8 giugno per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, il 30 giugno per le scuole dell'infanzia. L'anno scolastico 2022-2023 si interromperà come di consueto per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio, a Carnevale e a Pasqua dal 6 all'11 aprile. Come sempre le istituzioni scolastiche e formative nel rispetto del monteore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni. Apre al pubblico il nuovo sentiero partigiano strada della battaglia di Fonteno 31 agosto 44, suggestivo itinerario che ripercorre i momenti della più importante battaglia della resistenza bergamasca tra i comuni di Fonteno, Adrara, San Rocco e Endine Gaiano. L'inaugurazione è in programma sabato, domenica invece un evento a Clusone sempre organizzato dall'Ampi. Di entrambi gli appuntamenti ci ha parlato Mauro Magistrati, presidente provinciale dell'Ampi, a cominciare appunto dal sentiero che viene inaugurato sabato. Sì, il progetto è un progetto che parte da lontano perché sono più di due anni di fatto che Rampi provinciale insieme alle sezioni di Endine Gaiano, Lovere, Valcalepio e Valcavallina stanno lavorando appunto alla realizzazione di questo progetto. Un progetto suggestivo che anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale che ripercorre diciamo i momenti della più importante battaglia della resistenza bergamasca che si svolse appunto tra i comuni di Fonteno, Adrara, San Rocco e Endine Gaiano e quindi è diciamo il frutto di un grande lavoro dove attraverso dei totem, dei pannelli con testi in italiano e in inglese con fotografie storiche, con targhe e sagome permanenti vogliamo in qualche modo ricordare i fatti della battaglia di Fonteno e la straordinaria partecipazione che la popolazione di quei luoghi diede alla resistenza bergamasca la resistenza appunto di quei luoghi in particolare. Una tappa l'ultima delle nove tappe delle nove stazioni diciamo che compongono questo percorso è dedicata alle donne si trova a Valmaggiore, a Endine e è una tappa alla quale teniamo particolarmente perché ricorda il fatto che nei giorni della battaglia le sorelle Carolina e Ida Colombi insieme ad altre antifasciste della zona crearono di fatto un'infermeria clandestina dove i combattenti partigiani vennero nascosti e medicati per settimane e diversi di loro poi poterono così salvarsi. Tra questi partigiani c'era anche Mario Zeduri il partigiano Tormenta che poi rientrerà dopo la battaglia di Fonteno rientrerà in squadra nella resistenza nella sua formazione la cinquantatresima brigata Garibaldi proprio il 17 novembre del 1944 il giorno dell'assalto diciamo dell'astrellamento della Malgalunga e lì Mario Zeduri verrà ucciso dai fascisti in Malgalunga il 17 novembre del 44 il secondo appuntamento in programma Clusone domenica alle 17 presso il parco Nastro Azzurro in questo caso la presentazione di un libro dopo il mese di aprile di Giuseppe Brighenti Brac sì il libro è un libro che è uscito per la prima volta nel novembre del 1987 e abbiamo voluto ristamparlo l'anno scorso nel 2021 anno del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Brighenti Brac allora il partigiano Brac è un nome che ancora oggi come dire evoca memorie di battaglie apparentemente lontane cioè un nome che diciamo è risuonato parecchio nei territori, nei comuni della Bergamasca questo libro è un libro che già nel titolo così evocativo così esplicito e chiaro diciamo ci parla del dopo cioè che cosa è successo dopo il 25 aprile del 1945 e chi prende in mano diciamo questo libro può trovare una risposta a questa domanda è un libro denso, appassionato, vibrante e ci sono tutti gli elementi diciamo per capire come è subito dopo la liberazione l'euforia della liberazione lascia subito lo spazio alla preoccupazione all'affannosa ricerca di un posto di lavoro e il risorgere in qualche modo anche di meccanismi del passato liberale, del passato fascista che si pensava che con la liberazione in qualche modo venissero spazzati via ecco è un libro che ci restituisce anche la delusione della post liberazione rispetto anche alla mancata epurazione dei fascisti e al fatto di quanto, quanta fatica facessero i partigiani a trovare un posto di lavoro se solo si presentavano come partigiani Ardesio Divino torna quest'anno con la sua formula originale ma per gustare a pieno l'evento e avere anche uno sconto si può approfittare della prevendita è già possibile iscriversi anche agli eventi su prenotazione sentiamo si avvicina l'appuntamento con Ardesio Divino quest'anno la due giorni è in programma lo ricordiamo il 6 e 7 agosto e questo è il momento per iniziare a prenotarsi soprattutto per gli eventi collaterali quali indicazioni possiamo dare? allora innanzitutto che sono aperte le prevendite per l'evento e solo presso gli uffici di Vivi Ardesio o della Proloco che sono aperti Vivi Ardesio è aperto tutte le mattine tranne il mercoledì e la domenica dalle 10 a mezzogiorno e mercoledì e domenica è aperto il pomeriggio dalle 16 alle 18 mentre dalle 16 alle 18 tutti gli altri giorni mentre invece l'ufficio della Proloco è aperta tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12 quindi presso questi uffici è possibile acquistare la prevendita dell'evento che godrà di uno sconto appunto per l'ingresso per quanto riguarda invece gli eventi collaterali abbiamo innanzitutto con l'apertura il venerdì 5 alle ore 21 la cena divina e anche questa per iscriversi si può telefonare presso gli uffici oppure scrivere a info.ardisodivino.it questa è come ogni anno sarà organizzata da Tegoni e dallo chef Bertasa che ci trasporteranno in una cena esclusiva altri eventi collaterali sono il seminario Veronelli che si terrà il sabato 6 agosto alle 17.30 questo è possibile prenotarlo anche questo sempre tramite gli uffici oppure quella mattina all'ingresso appunto della manifestazione e niente vi aspettiamo per questa edizione che sarà un po' il ritorno alla normalità infatti ritornerà la cucina ritornerà il concertone sabato sera e appunto vi aspettiamo numerosi quindi e nel nostro TG tornano gli intervistabili riprendiamo infatti la collaborazione con i nostri reporter d'eccezione gli ospiti del CSE di Ponte Selva insieme a loro andiamo alla scoperta degli uffici turistici sul nostro territorio anche per capire come sta andando la stagione estiva vediamo ciao a tutti oggi incontriamo Diana di Promoterio all'ufficio turistico dei borchi della Presolana ciao a tutti grazie per essere venuti vi fa molto piacere quali sono le principali novità dell'estate? allora innanzitutto ci sarà l'immancabile appuntamento con il Presolana Race del 30 e il 31 luglio sarà una gara di mountain bike iscritta al circuito FC e poi sarà abbinata ad un raduno di e-bike si svolgerà proprio qui a Rovetta e percorrerà un tragitto di 50 km che andrà a toccare i paesi dell'alto piano quindi fino a Del Monte, Castione, Onore e così via e oltre a questa ci sarà anche tutto il programma estivo della nuova Proloco di Rovetta perché abbiamo una nuova Proloco molto giovane che si sta lavorando tantissimo per offrire un'estate veramente molto ricca di eventi nuovi senza dimenticare la tradizione come sta andando la stagione turistica nei bordi della Presolana? allora sta andando molto bene c'è qui molta molta gente sembra quasi di essere già a Ferragosto più o meno e continuiamo a ricevere un sacco di richieste di affitti di attività da fare è molto molto vivace e già attiva e per essere in metà luglio diciamo che sta andando davvero molto bene qual è il prossimo appuntamento da non perdere? come dicevo prima ci sarà il prossimo weekend sabato 30 e 31 luglio il Presolana Race quindi una gara di mountain bike e un raduno di e-bike con aperitivo e pranzo in quota dopodiché ad agosto tornerà la tradizionale Sagra dei Vertù e ci stiamo organizzando anche per riportare la Sagra della Patata sui primi weekend di settembre tutti i nostri eventi sono comunque inseriti in questa guida che abbiamo fatto con i principali eventi della Val Seriana e della Val di Scalve e potete trovarli comunque tutti sui nostri siti quindi www.borgipresolana.com e www.valseriana.eu quali sono le attività e i luoghi accessibili per le persone con disabilità in vacanza sul territorio? allora diciamo che già Rovetta si configura come un'area molto accessibile perché su una superficie pianeggiante non presenta particolari difficoltà per chi ha disabilità motori anche il parco comunale per esempio è molto grande ed è facilmente accessibile a tutti e l'amministrazione ha sempre prestato molta cura al proprio territorio affinché possa appunto soddisfare le esigenze di tutti per esempio hanno appena sistemato il sentiero che sale verso il Monte Blum che è una delle tappe clou del paese di Rovetta e adesso è facilmente raggiungibile anche con la Jeep tendenzialmente su tutto il territorio sono molte le realtà che si stanno attrezzando per essere sempre più accessibili mi vengono in mente per esempio molti rifugi che stanno lavorando appunto al fine di rendersi più attrattivi e accessibili a tutti oppure per esempio il sentiero che va a Baita Castinelli a Castioni e la Presolana è stato totalmente ristrutturato per essere accessibile sia a persone con disabilità motorie che visive quindi diciamo che sul territorio siamo messi molto bene c'è lavoro da fare però non siamo messi diciamo così male Una cinquantina di ragazzi partecipano al camp di calcio targato Real Madrid in corso al centro sportivo di Gazaniga ieri è l'apertura e c'eravamo anche noi È iniziato a Gazaniga organizzato dalla Virtus Oratorio Gazaniga il Real Madrid Camp come si svolge questa esperienza? È una nuova esperienza che è ospitata dalla nostra società totalmente organizzata dalla Scuola Calcio del Real Madrid che organizza in diversi luoghi d'Italia ed Europa una settimana all'insegna dello sport e del calcio per far vivere ai ragazzi una settimana da veri campioni Quanti ragazzi ci sono? Attualmente ci sono iscritti una cinquantina di ragazzi le iscrizioni sono iniziate già dal mese di febbraio e abbiamo raggiunto il tutto esaurito per la capienza che il campo può ospitare Quanti anni hanno? I ragazzi sono quelli elementari, delle medie per cui coprono dai 6 anni ai 14 anni circa I ragazzi da dove vengono? Abbiamo avuto iscrizioni da tutta la Bergamasca in modo particolare dalla Val Seriana per cui il territorio che va da Vertova fino a Bergamo Abbiamo anche qualche ragazzo che viene da Bienno, Brusaporto, Scanzarosciate Come viene impostata questa esperienza? Cosa fanno in particolare? Come si svolgono gli allenamenti? Gli allenamenti si svolgono due volte al giorno per circa due sezioni giornaliere di due ore sono organizzati da istruttori della scuola del Real Madrid sono organizzati in tre gruppi che continuano a ruotare sul campo attraverso allenamenti innovativi dal dribbling con palloni di diversa forma a porti di dimensioni varie ad una tecnologia basata sulla misurazione delle singole doti di ciascun atleta Perché avete voluto questa esperienza? Innanzitutto siamo stati selezionati direttamente dalla scuola calcio del Real Madrid che attraverso questi clinic ricerca diverse situazioni nel territorio italiano Gli avevo conosciuti l'anno scorso ho mostrato loro le strutture ed insieme è nata questa collaborazione che è frutto anche di anni di organizzazione e rivalutazione nostra interna All'apertura del camp anche il vice sindaco di Gazaniga, Angelo Merici un orgoglio per il paese avere il Real Madrid? Assolutamente sì è un orgoglio avere il Real Madrid e Gazaniga è un orgoglio mio personale poter essere qua a cogliere questo camp al suo inizio è bello vedere l'attività della Virtus che è vitale cerca di coinvolgere le realtà che vanno oltre al paese quindi coinvolgendo ragazzini un po' da tutta la provincia sono bei momenti perché aiutano a far vivere questa struttura che è imponente perché una volta era dedicata al Gazaniga della Serie D quindi vedere una squadra d'eccellenza che viene a portare i suoi valori ai nostri ragazzini riempie il cuore d'orguglio Era l'ultimo servizio, adesso i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20.40 un nuovo appuntamento con il Sasso nello Stagno alle 21.30 Antenna 2 Sport alle 22.30 la seconda edizione del TG alle 23.05 Potadea a mezzanotte e mezza la terza edizione del telegiornale l'Almanacco domani è mercoledì 20 luglio il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 21.09 la luna è all'ultimo quarto sorge a mezzanotte 23 tramonta alle 13.43 la Chiesa ricorta Sant'Elia Profeta siamo giunti al termine vi ricordo dopo il telegiornale la rubrica Belase e le previsioni del tempo grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito